Il consigliere regionale dell'Udc, Francesco Mollica, ha presentato un'interrogazione per conoscere le reali intenzioni del governo regionale sul piano regionale dei trasporti. Mollica evidenzia che l'assessore Berlinguer, nell'enfasi di comunicare alla stampa l'approvazione in giunta delle linee strategiche e programmatiche, propedeutiche alla riforma del piano regionale dei trasporti, sembra aver dimenticato gli accordi presi in terza commissione. Durante un'audizione erano stati infatti sottoposti all'attenzione dell'assessore e del presidente Pittella alcuni suggerimenti, considerati in un primo tempo utili dall'assessore ad integrare il piano regionale dei trasporti, ma successivamente accantonati senza un valido motivo. L'ambiguo comportamento dell'assessore, conclude il consigliere dell'Udc, non può che essere stigmatizzato e valutato come un atteggiamento poco democratico ed irrispettoso nei confronti dei componenti della commissione, che non prelude certamente ad un confronto sereno in sede consigliare.